Sala Consirina Sala Consirina Il volontariato civico Rosa Melillo ha previsto una serie di iniziative volte ad accendere un faro o meglio una luce sul tema della violenza sulle donne che troppo spesso sfocia poi in omicidio. Il 24 e 25 novembre il comune di Sala Consirina sarà colorato di rosso. L'amministrazione comunale infatti collocherà sulla facciata del municipio un drappo rosso, inoltre attraverso l'installazione di un faro luminoso sarà anche illuminato con luci rosse per manifestare il fermo proposito dell'amministrazione Cavallone di adottare tutte le misure necessarie e tutte le iniziative per sensibilizzare e contrastare la violenza sulle donne. Il 24 novembre il pomeriggio sarà poi ampiamente dedicato alle celebrazioni con un'iniziativa che vedrà come fulcro del programma il centro storico salese. L'evento denominato una luce di speranza si terrà a partire dalle ore 17 quando ci si riunirà davanti alla panchina rossa realizzata proprio a simboleggiare la perpetua lotta contro la violenza sulle donne. A seguire partirà la marcia silenziosa che attraverserà tutto il centro storico con sosta presso le principali chiese dedicate al culto mariano. Dalla Santissima Annunziata quindi si partirà alla volta della chiesa di Maria Santissima di Costantinopoli passando per la cappella della Madonna delle Grazie. Un percorso che sarà illuminato proprio dalle fiaccole come luce della speranza affinché possa giungere presto il momento in cui si porrà fine al triste fenomeno della violenza contro le donne.